buongiorno a tutti da art major appena finito di registrare il video per il settimo capitolo dell'apocalisse siamo al sesto sigillo ancora dobbiamo concludere i sigilli entrare quindi nella fase delle sette trombe dell'apocalisse condivido lo schermo andiamo così a leggere assieme a proposito del ottavo capitolo vedete 13 versetti poi dice e quando aprì il settimo sigillo si fece silenzio in cielo per circa mezz'ora e vedi sette angeli che stanno dinanzi a dio e furono date sette trombe quindi vedete viene aperto il settimo sicilio che è l'introduzione alle sette trombe abbiamo quindi sette sigilli sette trombe sette angeli sette congregazioni sette stelle una struttura che in rivelazione va a sottolineare i sette tempi l'esistenza dei sette tempi della fila questa struttura questa organizzazione di sette sigilli e durante il settimo sigillo si aprono le sette trombe non vuol dire che le sette trombe facciano riferimento tutte quante al settimo anno ma è piuttosto una struttura ripetuta che evidenzia ancora di più la durata dei sette tempi e ci ricorda per esempio ciò che succede ciò successe a gerico quando l'esercito di israele dovete fare un giro attorno al gerico per sei giorni e il settimo giorno dovete fare sette giri quindi è una struttura che si ritrova più volte ad identificare un intensificarsi delle azioni riguardanti il giudizio divino contro il sistema dio per esempio ci sono state anche le sette i sette anni di carestia e sette anni di abbondanza durante i tempi di giuseppe in egitto che comunque fanno riferimento sempre agli stessi sette anni dei tempi della fine delle sette vacche grasse sette vacche magre sette spighe secche e sette spighe belle piene sempre si fa riferimento ai tempi della fine quindi poi quasi dice arrivo un altro angelo e stesse presso l'altare avendo un vaso d'oro per l'incenso e gli fu data una grande quantità di incenso per offrirlo con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era dinanzi al trono e dalla mano dell'angelo il fumo dell'incenso ascese con le preghiere dei santi dinanzi a dio ma subito l'angelo prese il vaso dell'incenso lo riempì del fuoco dell'altare e lo speglie sulla terra e ne seguirono a tuoni e voci e lampi e un terremoto e i sette angeli con le sette tombe si preparavano su un'arve quindi vedete c'è questo angelo che offre le preghiere dei santi così come incenso questo sta un po ricollegarsi con l'espressione di ezechiele quando descrive l'uomo con il calamaio che dice che il segno di dio viene dato coloro che gemono quindi coloro che continuano a pregare dio affinché le ingiustizie di questo mondo cessi e dice che subito l'angelo prese il vaso lo riempì del fuoco dell'altare lo scaglio sulla terra ne seguirono toni voci lampi e un terremoto allora siamo all'inizio delle sette trombe alla fine dei sette sigilli quindi il settimo anno la fine la distruzione del sistema con tuoni voci e lampi quindi il giudizio divino finale la grandine finale quindi il giudizio contro questo sistema di cosa un terremoto cioè la separazione definitiva tra cose buone e cose cattive la divisione tra pecore e capri perché il terremoto è dio che scuote il sistema per trarne fuori ciò che rimane di buono quindi un rimanente e poi quindi si comincia con le sette trombe dal versetto 6 andiamo avanti col versetto 7 qua dice il primo sono la sua tromba e vennero gran grandi nei fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra e un terzo della terra fu bruciato e un terzo degli alberi fu bruciato e tutta la verde vegetazione fu bruciata quindi quasi incomincia un po dalla fine no con una visione simmetrica rispetto ai sigilli che una costruzione molto tipica delle scritture c'è una simmetria nei tempi e qua vedete si parla quindi già della grandine del giudizio finale del fuoco mescolati con sangue e dice che un terzo della terra fu bruciato cioè un terzo della terra esce e l'effetto del terremoto un terzo degli alberi gli alberi sono i servitori di dio fu bruciato tutta la vegetazione fu bruciata quindi un terzo degli alberi quindi un terzo del popolo di dio si separa dagli altri tutta la verde vegetazione la verde vegetazione sono coloro che si separano quindi coloro che continuano a far parte del popolo di dio quindi tutti quanti vengono bruciati tutti quanti muoiono rispetto al sistema versetto 8 e il secondo angelo sulla sua tromba è qualcosa come un gran monte infuocato scagliato nel mare e un terzo del mare divenne sangue un terzo delle creature che sono nel mare che hanno anima morì e un terzo delle navi fece neofragio e quindi qua si parla di un monte un gran monte infuocato che richiama alla pietra che colpisce la statua di daniele daniele dovrebbe essere capitolo 4 quindi da un gran monte si stacca una pietra che colpisce questa statua ai piedi e la distrugge e va a fornire a costruire un altro un altro monte e quindi rappresenta il regno l'inizio del regno messianico che determina l'uscita dei fedeli infatti dice vedete un terzo del mare divenne sangue cioè non è più non non è più in grado di fornire guida spirituale perché esce un terzo delle creature che sono nel mare perché hanno anima muore un terzo delle navi fa naufragio questo terzo della popolazione che non si vaccina che quindi non prende il marchio e non adora la bestia selvaggia ci sono queste due cose di cui bisogna tenere conto non bisogna prendere marchio né adorare la bestia selvaggia quindi coloro per esempio che non si vaccinano ma che continuano a sperare in un sistema che ritorni ad essere quello di prima è chiaro che stanno adorando la bestia selvaggia comunque adorano il sistema così come era non vogliono quindi queste persone quelli che si vaccinano sacrificano la loro vita per il sistema perché spesso chi si vaccina sa che gli effetti collaterali possono essere tremendi ma è risposto a sacrificarsi per il sistema per continuare a viverci dentro che invece non si vaccina ma va a manifestare le piazze si sacrifica per un sistema che era quello vecchio che comunque era il sistema risale versetto 10 il terzo angelo suonò la sua tromba e cade dal cielo una grande stella ardente come una lampada e cadde su un terzo dei fiumi sulle fonti delle acque il nome della stella è assenzio e il terzo delle acque si mutò in assenzio e molti degli uomini morirono a causa delle acque perché queste erano state rese amare quindi una stella che cade la stella rappresenta guida spirituale la stella è simbolica del popolo di dio tant'è che inizialmente in genesi si parla di giuseppe dei suoi fratelli come 12 stelle quindi una stella che cade rappresenta la caduta delle religioni e che a causa di questa caduta continuano a fornire acque cioè cibo spirituale cioè guida nutrimento alle persone che però è amare e quindi dice un terzo delle acque si mutò in assenzio quindi le religioni vengono rese amare incapaci di dare guida spirituale e il quarto angelo sono la sua tromba dice l'assetto 12 fu colpito un terzo del sole un terzo della luna un terzo delle stelle affinché un terzo di essi si oscurasse il giorno non si illuminasse per un terzo e similmente la notte quindi con la quarta tromba vedete c'è la fine effettiva delle religioni sole luna stelle tutte rappresentano le religioni e dice un terzo di essi si oscura quindi c'è la caduta l'uscita di un terzo delle persone della religione l'assetto 13 vidi udì un'aquila che volava in mezzo al cielo di radalta moce guai 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 a quelli che dimorano sulla terra a causa del resto degli squini di tromba dei tre angeli che stanno per suonare le loro trombe rimandano le ultime tre trombe che vengono anche chiamati guai infatti vedete quest'acqua che dice guai 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 a rappresentare il fatto che con la caduta di satana dopo la metà della settimana ok sono sette anni la metà e tre e mezzo però siccome non si può dividere una tromba metà si fa quattro trombe prima della metà e tre l'ultima metà quindi gli ultimi tre anni e mezzo rappresentano i guai cui deve essere sottoposto il sistema e lo di quella dirlo è un'aquila se quando leggeremo poi rivelazione al capitolo 12 vedremo che alla donna cioè a babilonia cioè al popolo di dio vengono fornite a ali di acquida per volare nel deserto in cui vi è nutrita quindi babilonia stessa dice guai 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 a quelli che dimorano sulla terra il popolo di dio in realtà sì non è proprio babilonia ma è ciò che esce da babilonia e cioè è il rimanente alla donna che vengono dati alle di acquida che va nel deserto vuol dire che dalla donna esce un'altra donna cioè un rimanente che si deve purificare ma si purifica nel momento in cui è nel deserto quest'aquila si nutrirà di dei cadaveri che trova nel deserto cioè di coloro che sono morti cioè di quel terzo di uomini che non hanno accettato il grande reset o il marchio la vaccinazione ok così abbiamo visto anche le prime quattro trombe che sottolineano il fatto che un terzo delle persone non sono disposte alla marchiatura non sono disposti ad inchinarsi di fronte alla statua di nabucodonosor la statua d'oro all'obelisco solare ma vogliono invece salire va bene un saluto a tutti ci vediamo entro breve con i prossimi video ciao a tutti